La scusa per la scena dell'amore, che Demetho Sdemir ha accettato e Anders l'ha rifiutato, è così illogica. La fortunata collaborazione di Anders e Lecheren Bursin nella serie TV Central Cup li ha portati verso l'amore. Le accuse secondo cui i due erano innamorati sono State confermate ad aprile. La coppia, molto in sintonia l'uno con l'altro, ha guadagnato più fan in molti paesi del mondo grazie alla serie. Il fatto che i due stessero insieme ha anche reso molto felici tutti i loro fan. La natura a breve termine di questo amore, così come il fatto che una serie di amori erano più reali, non sono passati inosservati. La coppia Kerem Bursin e Anders e Lecheren si sciolse per divergenze di opinioni. Un altro problema emerso di recente sui due, che sembravano essere separati da tre settimane, ha attirato ancora una volta l'attenzione. Anders e Lecheren è stata la protagonista femminile della serie TV Dunia e Lebeni Maramda, preparata da Disney Plus per la Turchia. È stato un dettaglio notevole che i funzionari di Disney Plus preferissero Kerem Bursin come protagonista maschile invece di Bugra Gulsoy. Si è scoperto che Anders e Lecheren non ha accettato la serie A, causa della scena dell'amore nella storia. Quando lo sceneggiatore Pnar Bulut ha insistito su questa scena, è stato affermato che l'attrice non voleva interpretare un ruolo. Demetho Sdemir è diventato il proprietario del ruolo che Anders e Lecheren non ha accettato. Qual è stato l'effetto dell'ultima situazione nei loro rapporti in questi incontri, che hanno coinciso con la separazione di Kerem Bursin e Anders e Lecheren? Anders e Lecheren non ha accettato il ruolo perché era davvero a disagio con la scena dell'amore? Se l'obiezione di Anders e Lecheren ha questa scena di sesso, che sorprende i suoi fan, è vera, l'attrice non dovrebbe accettare ruoli simili nei suoi progetti futuri. Che tipo di scena è che Demetho Sdemir accetterebbe ma Anders e Lecheren no, tanto che la giovane attrice ha rifiutato questa opportunità a Disney Plus. Durante queste interviste, che hanno coinciso con la separazione di Kerem Bursin e Anders e Lecheren, mi chiedo se Ersel abbia saputo che la sua ex ragazza era considerata l'attore protagonista maschile e quindi non volesse accettare il ruolo? Non conosciamo lo sviluppo e la comprensione degli eventi, ma potrebbe esserci la possibilità che questi due problemi, che hanno coinciso molto di recente, possano influenzarsi a vicenda. Quindi, Anders e Lecheren avrebbe potuto rinunciare alla serie quando ha saputo che Kerem Bursin era stato preso in considerazione per il ruolo principale, non a causa della scena dell'amore? Certo, questa è una previsione, ma poiché sia i colloqui della serie che la separazione della coppia hanno coinciso con lo stesso periodo, è stata una situazione che è rimasta impressa nella mente. E che scena d'amore è quella di Metos Demir, che aveva rifiutato Anders e le prestava attenzione alla sua carriera e ai suoi ruoli almeno quanto lei l'aveva accettata. È illogico, anche molto illogico. Contenuti esclusivi sul nostro canale YouTube. Contenuti esclusivi sul nostro canale YouTube. Contenuti esclusivi sul nostro canale YouTube.